Moment Act contro Wolf Muffin si gioca per la seconda giornata, ginone di ritorno, Futsal Champions Cup categoria cadetta Wolf Muffin per provare a fare un colpaccio per mettere al sicuro la qualificazione alla fase finale, la compagine padrona di casa deve rispondere alla goleada della Longobarda contro il Pecuru Giallu FC. Moment in vantaggio con patron Fabio Sorrentino, ma chi si aspetta una pronta reazione della Wolf Muffin resterà non soddisfatto ma estasiato, la formazione ospite mette alle corde la capolista, qui la traversa colpita da Emanuel Piras che si rifarà poco più tardi andando a realizzare, come stiamo osservando nelle immagini realizzate dalla nostra alba al campo Fiore Verderame di Cagliari, il gol del meritatissimo pareggio. Pari che però dura poco perché Tiberi imbeccato da carta fa subito 2 a 1, la formazione ospite risponde prima con Caria, qui la conclusione viene miracolosamente respinta da Antonio Piras, poi con Serra che ci prova dal limite impegnando Antonio Piras. Da quest'altra parte il Moment Act colpisce Carboni, conclusione respinta da Sarigu, poi la palla arriva per Carletti che è a porta vuota, non può sbagliare. 3 a 1 per la formazione di casa Wolf Muffin che prova a dire la sua ma nel finale concede uno spazio letale a Fabio Sorrentino che regala ai sostenitori della sua squadra il secondo gol personale, il 4 a 1 per il Moment Act. Il risultato pesantissimo al termine del primo tempo per quello ho fatto vedere in campo dalla compagine di Michele Piras. Compagine di Michele Piras che parte decisamente bene anche nel corso del secondo tempo, qui stiamo vedendo l'occasione avuta da Fois con Piras bravissimo in uscita e poi il gol, va detto meritato, della formazione ospite realizzato da Roberto Serra. Torna a farsi vedere da quest'altra parte il Moment con carta che impegna e non poco Sarigu poi il quinto gol della squadra del Moment Act realizzato direttamente dal dischetto da Carletti. Sorrentino ci prova una volta, bravo Sarigu, alla seconda gli riesce di realizzare la tripletta personale e così il punteggio al Fioreverderame e il seguente Moment Act 6, Wolf Muffin 2. Va detto che la squadra ospite non arretra, non si arrende per alcun motivo e allora continua ad attaccare qui, intanto avete visto l'occasione clamorosamente sciupata dalla formazione di casa che fa il palio con quest'altra, avuta dal Wolf Muffin, Moment Act che continua ad avere spazi invitanti là davanti. Allora arrivano in serie due gol realizzati da Bomber Andrea Girau, il primo per il temporaneo 7 a 2 e il secondo per il temporaneo 8 a 2. Intanto qui Piras, bravissimo sulla conclusione da fuori di Ennas, poi nel finale andranno a segno. Prima Carletti, gol del 9 a 2 che abbiamo visto poc'anzi, poi Carboni in serie, prima per il 10 a 2 e poi per il gol dell'11 a 2. Prima del triplice fischio, un pericolo per parte, questo portato da carta per il Moment Act e quest'altro di Emanuel Piras che chiuderà così la partita sul seguente finale. Moment Act batte Wolf Muffin 11 a 3 e riacciuffa la Longobarda in vetta alla classifica.